Ed eccoci a Fatti Quotidiani, oggi puntiamo l'attenzione su uno dei fatti rilevanti della giornata, ovvero la ripartenza delle idrovie a Taranto, un momento atteso delle Tarantini non solo perché si potrà sfruttare il mare per raggiungere per esempio lo stabilimento elioterapico dell'isola di San Pietro, c'è quest'accordo che si rinnova tra l'AMAT, l'azienda municipalizzata per la mobilità urbana di Taranto e la marina militare ed è un accordo che ormai fa parte della tradizione della città di Taranto, dunque sarà possibile anche effettuare le escursioni, quelle notturne, quelle che consentono di trascorrere anche una serata diversa all'insegna del mare, del canto, della buona musica e anche della degustazione di prodotti tipici, ma tutto dovrà essere effettuato rispettando quelle che sono le normative per contenere la diffusione del Covid-19. Oggi c'è stata la prima giornata di ripartenza delle idrovie dal ormai tradizionale piazzale Democrat nel quartiere di Porta Napoli a Taranto, tra poco vedremo anche delle belle immagini suggestive perché sono state rese ancora più belle dalla giornata di sole che oggi c'era a Taranto, col mare piatto e cristallino. Ci collegheremo tra pochissimo con la presidente dell'AMAT di Taranto, la dottoressa Giorgia Gira per farci spiegare quali sono le peculiarità di questa annata 2020 a bordo delle idrovie, delle due motonavi, ovvero l'Adria e la Clodia che come al solito faranno la spola tra le isole Cheradi e la città di Taranto. Dunque vediamo se c'è il collegamento, salutiamo dunque il presidente dell'AMAT, Giorgia Gira, grazie per questo contributo a Fatti Quotidiani, grazie. Buonasera, buonasera direttore e buonasera a tutti i telespettatori. Io ringrazio per il collegamento e sono orgogliosa di dire che oggi 20 giugno il servizio delle idrovie gestito da Chima Mobilità AMAT con le proprie motonavi Clodia e Adria in collaborazione con la Marina Militare è fortemente voluto dall'amministrazione Melucci e oggi è ripreso. Questo durerà fino al 20 di settembre prossimo e ripeto questo è un servizio voluto fortemente dall'amministrazione e è entrato nel cuore di tutti i cittadini tarantini. Oggi abbiamo inaugurato il servizio che con soddisfazione posso dire che ha avuto un ottimo riscontro da parte dell'utenza e ovviamente quelli che saranno il servizio di quest'anno sarà particolare, sarà comunque modificato rispetto all'anno scorso. Infatti proprio per rispettare quelle che sono la normativa per la limitazione del contenimento del virus, del contagio del virus, gli ingressi saranno contingentati. Infatti a differenza dell'anno scorso la capienza di 300 passeggeri sarà fortemente limitata. Però non per questo l'amministrazione Melucci non ha perseverato in questo progetto tanto voluto e quindi con la pazienza e la benevolenza dei nostri utenti oggi abbiamo avuto il riscontro che il fissio nonostante le varie limitazioni viene comunque effettuato in maniera eccellente. Ecco ci sono queste limitazioni, quasi anzi il 50%, la metà della capienza di ogni singola motonave potrà essere utilizzata. Ovviamente le spese per l'AMAT sono le stesse, questo come si andrà a pareggiare questo bilancio, definiamolo così? Quest'anno noi ci tengo a precisare che le motonave così come i nostri mezzi vengono sottoposte a sanificazione costante e quotidiana, quindi pertanto anche a bordo delle nostre motonavi si potrà viaggiare in assoluta sicurezza e tranquillità. Infatti a bordo delle motonave sono stati comunque segnalati quelli che sono i posti fluibili ed è fatto, ci viene richiesto quindi obbligatorio, indossare la mascherina al momento dell'imbarco e per tutto il progetto. A bordo sarà possibile procedere alla sanificazione delle mani appunto per mettere in atto tutte quelle che sono le limitazioni e il rispetto della normativa vigente. C'è stato un piccolo incremento di qualche decina di centesimi del progetto proprio per consentire a tutti di viaggiare in sicurezza e godersi non soltanto lo spettacolo naturale, unico mi sento di dire che permette la traversata e poi l'arrivo all'istola di San Pietro ma anche di viaggiare in totale sicurezza. Per quanto riguarda invece le escursioni notturni, ovviamente anche lì ci sarà la limitazione al 50% della capienza delle motonavi. Ci vuole anticipare qualche cosa su quelli che saranno gli avvenimenti che avverranno a bordo delle due motonavi? Sì, così come gli anni passati anche quest'anno abbiamo voluto offrire a quella che è la nostra cittadinanza ma anche quello che è il successo dello scorso anno anche ai turisti provenienti da fuori regione, quello che è lo spettacolo di poter godere di questi giri turistici tra il Mar Piccolo e il Mar Grande con una guida a bordo alla riscoperta di quelle che sono le bellezze del nostro mare, quindi con le spiegazioni non soltanto di quelli che sono i fenomeni così particolari delle quali gode la nostra città come ad esempio i citri ma anche di tutte quelle che sono le tradizioni popolari. Quindi questa guida a bordo farà comunque di aiuto e delizierà quella che è la traversata. Un'ultima novità che riguarda questa stagione estiva 2020 un po' particolare anche per le idrovie riguarda i biglietti perché non si potranno più fare a bordo come avveniva fino all'anno scorso ma bisognerà recarsi nella sede amministrativa e operativa dell'AMAT che è in via da Quino 21. Quindi in nessun caso sarà possibile fare il biglietto salendo a bordo quest'anno, vero? No, perché così come abbiamo disposto per i nostri mezzi al fine di rispettare quella che è la distanza di sicurezza prevista dalla normativa non sarà possibile acquistare i biglietti a bordo. Sarà possibile acquistarli presso il nostro ufficio commerciale di via da Quino ma anche presso tutte le rivenditi autorizzate e tra una decina di giorni sarà fruibile nuovamente quello che è il sito internet per poter acquistare online incomodamente da casa i biglietti per le idrovie. Perfetto, grazie. Noi ringraziamo il presidente dell'AMAT, la dottoressa Giorgia Gira, sempre molto disponibile. Grazie e buon lavoro. La cosa importante poi alla fine è che quest'anno si è riusciti a ripartire più o meno nella stessa data di tutti gli altri anni, cioè a metà di giugno. Quindi magari in piena pandemia nessuno poteva aspettarselo, vero? Una sua riflessione su questo. No, assolutamente. Noi quest'anno nel periodo di lockdown davvero pensavamo di non riuscire a poter partire con questo servizio. Invece con l'aiuto dell'amministrazione Melucci e della marita militare e soprattutto del nostro equipaggio che ha lavorato in maniera cessante per mettere a norma le nostre motonavi, siamo stati in grado di partire oggi e di offrire questo servizio che tanto è amato dalla città dei nostri cittadini. Certo. Grazie, grazie presidente. Dunque ringraziamo il presidente dell'AMAT, Giorgia Gira, per questo contributo. Bene, allora ricordiamo che le escursioni, le escursioni notturne, quelle turistiche per intenderci, possono essere effettuate dal mercoledì alla domenica con partenza alle 20, dal piazzale Democrat che si trova praticamente a metà strada tra la città vecchia e il rione Tamburi, in zona Porta Napoli. Il biglietto singolo costerà 9 euro, mentre se si va a bordo in gruppo, un gruppo di almeno 20 persone, allora ci sarà una differenza di prezzo col biglietto singolo, costerà 7 euro. È necessario fare le escursioni turistiche, come diceva poco fa il presidente Gira, con la mascherina, i guanti, utilizzando il gel, insomma tutte quelle che sono le norme di sicurezza per evitare la diffusione del contagio. Si parlava poc'anzi dell'equipaggio delle due motonavi, l'Adria e la Clodia, che ha dato un contributo notevole affinché il servizio ripartisse in maniera puntuale anche quest'anno, nonostante tutto ciò che è accaduto. Abbiamo ascoltato uno dei comandanti, comandante di nave Clodia Egidio Di Polito. Sentite. L'AMAT, predisposto per l'Isola di San Pietro, è un servizio che consta di circa 12 corse, quindi 6 corse all'ondata, 6 corse a ritorno, quindi abbiamo più che raddoppiato il servizio dell'anno scorso. Questo ovviamente è causa delle condizioni emergenziali dovute al Covid-19. Si è pensato, ovviamente la dirigenza ha pensato di offrire un servizio ancora più imponente, proprio per sopperire a queste eventuali mancanze. Abbiamo una riduzione della capacità operativa delle motonavi di circa il 60%, questo per consentire anche un distanziamento tra i passeggeri e farli viaggiare in assoluta sicurezza, insomma per avere il massimo delle garanzie. Poi ovviamente noi da parte nostra come servizio organizziamo delle sanificazioni giornaliere, delle disinfezioni che ovviamente garantiscono ancora di più questa sicurezza. Poi come potete osservare hanno la nostra tipologia di nave a molti spazi aperti, quindi diciamo è ancora più fruibile da questo punto di vista, è anche più facile che i passeggeri godano di questo servizio in assoluta sicurezza. Adesso c'è una reciprocità tra le corse di andata e di ritorno, ovviamente questo per far sì che il servizio giri meglio e che insomma ognuno sappia quando deve partire, quando deve ritornare, anche se ovviamente non si è potuti accontentare tutti perché di solito c'erano persone che imbarcavano la mattina presto e andavano via la sera. Ovviamente era piacevole perché le condizioni lì all'isola sono veramente eccezionali. Adesso siamo ancora in un periodo di prova, però abbiamo cercato di pensare a tutte le eventualità e quindi anche in condizioni tra virgolette emergenziali come quelle che sono capitate l'anno scorso con un fortunale veramente importante, anche in quelle condizioni abbiamo deciso di fornire un servizio ancora più completo, ancora più pressante, cercando di evacuare, ovviamente una condizione che non si dovrà verificare, ma comunque abbiamo pensato anche a questo. Quindi l'ottica dell'AMAT è quella della massima sicurezza per i passeggeri. Cioè noi vogliamo che loro si sentano a casa, ma soprattutto vogliamo che questa esperienza di vita vissuta in mare e sulla spiaggia sia una esperienza positiva. Io vorrei ricordare su questa novità, iniziano oggi i trasferimenti a bordo delle motonavi Adria e Clodia a Taranto, la collaborazione con la Marina Militare, perché si potrà andare al mare tutti i giorni utilizzando lo stabilimento elioterapico dell'isola di San Pietro, che ha 200 ombrelloni, che è della Marina Militare e il cui ingresso costa soltanto 1,80 euro. Poi ovviamente bisognerà pagare poco più di 9,50 euro per il trasferimento andato e ritorno a bordo della motonave. Però questo è un significativo segnale di collaborazione che tra l'altro non è una novità, si verifica da qualche anno tra la Marina Militare e la città di Taranto. Al proposito, prima di salutarci, ricordiamo che sarà indispensabile fare i biglietti non a bordo come è avvenuto fino allo scorso anno, ma presso la sede dell'AMAT che è ubicata poi tra l'altro in Corso Due Mari, in Via d'Aquino, al Civico 21, pertanto vicinissima alla Ponte Girevole, lì bisognerà acquistare i biglietti e poi recarsi sul piazzale Democrat, per intenderci dove c'era una volta il ristorante al Gambero, da lì partiranno le motonave, che effettueranno una sosta alla stazione Torpediniere per poi proseguire verso le isole Cheradi. Chiudiamo qui questo appuntamento con fatti quotidiani, ringraziamo Michele Marchitelli che come sempre ha curato sabientemente la parte tecnica, ma ringraziamo soprattutto voi da casa per la cortese attenzione e buon proseguimento con i programmi di Canale 85. Arrivederci.